Io non devo scordare che il cielo fa in me, tu, e il cielo è in me, che non parlavi mai del mio volto, ma solo quando io parlavo di Dio, mi toccavi la fronte con gli eviditi e dicevi, sei più bella così, quando pensi le cose buone. Sono stati Chiara e Francesco D'Assisi, Caterina Murrino e Riccardo Vannuccini, i protagonisti della giornata del 4 luglio al Cortona Mix Festival. Sulla splendida cornice della chiesa di Sant'Agostino, i due attori hanno portato in scena una lettura spettacolo sui testi di Francesco e Chiara D'Assisi e di alcuni poeti sul tema della santità e dell'armonia, una prima assoluta in occasione del Giubileo della Misericordia. Accoglietemi per questa notte e quelli risponde, non lo farò, va a te. Ebbene, se io avrò molto pazienza e non mi sarò perturbato, io ti dico, qui è la vera servizia e qui è la virtù e la salvezza dell'anima. È stato poi il turno di Andrea Chimenti che ha animato il teatro Signorelli con la sua personale interpretazione di David Bowie. Grazie a tutti.